Buongiorno a tutti. È un periodo lavorativo particolarmente intenso perché stiamo cercando di analizzare lo scenario economico per cogliere delle opportunità straordinarie che ci sono sui mercati. In questi 15 giorni, in questo mese, mi sono arrivate diverse domande sia dai social sia dai amici, parenti e clienti. Una di queste riguarda il Corona Bond. Che cosa sono e che cosa possono servire? L'Unione Europea per fronteggiare la crisi economica reale dovuta al coronavirus e alla chiusura del mondo intero sta discutendo su quelle che possono essere le manovre da mettere in atto a sostegno dell'economia reale. Nella mia vita non sono mai stato favorevole alla crescita smoderata del debito pubblico, però in questo caso secondo me diventa fondamentale riuscire a sostenere l'economia reale e quella sociale. I Corona Bond vogliono essere delle obbligazioni emesse sul mercato in cui si cercano capitali, quindi delle persone, degli obbligazionisti che vogliono sottoscrivere queste obbligazioni. Il ricavato di questa sottoscrizione viene poi usato per sostenere i vari paesi che sono vittima della chiusura dell'economia reale, quindi sia a livello di aziende, sia a livello statale che di singoli cittadini. Però qual è la grossa differenza? Che in questo caso il debito creato da queste obbligazioni emesse non è più legato al singolo Stato europeo, ma all'integrazione dell'Unione Europea come sua totalità, quindi un debito pubblico condiviso tra i vari Stati. Questo è un po' uno scoglio che all'interno dell'Unione Europea crea molti dibattiti, soprattutto Austria, Olanda e Germania, sono contro a questa condivisione del debito pubblico, ma ritengo che in questo momento l'Europa debba fare uno sforzo, debba andare oltre a quelli che sono stati fino ad ora i principi che l'hanno guidata, perché se vogliamo diventare effettivamente un'Unione Europea dobbiamo mettere anche in condivisione il debito, o almeno una parte di esso, e i coronabond possono essere il primo passo per fare poi quello che diventa poi il tassello più importante, cioè gli euro bond, e quindi un trasferimento del debito delle varie nazioni a livello centralizzato. È in discussione allo stato attuale queste soluzioni, molto probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo e soprattutto questi coronabond difficilmente saranno operativi nel breve periodo, quindi l'Unione Europea deve trovare delle soluzioni ponte che possano sostenere l'economia reale nel brevissimo periodo, una di queste potrebbe essere il Fondo Salva Stati, ovviamente stanno discutendo, ma l'importante è che si arrivi a questa condivisione del debito, perché in alternativa i singoli Stati potrebbero andare in difficoltà, soprattutto l'Italia che nel 2021 si troverà un debito molto alto e un PIL che potenzialmente oscillerà tra meno 10 e meno 5, andrà fuori da tutti i parametri dell'Unione Europea e di conseguenza potrà trovarsi in difficoltà. Un caro saluto a tutti da Giovanni Cuniberti, Patrimoni di Famiglia. Grazie a tutti.